Con le unghie con la rete di Magnaghi al ventesimo il Teramo inaugura nel migliore dei modi il nuovo anno. 0-1 sul campo della Sicula Leonzio per la formazione di Tedino che interpreta la partita esattamente con lo spirito che a volte a questa squadra è mancato. Coltello tra i denti e pochi, pochissimi fronzoli. L'allenatore sceglie una punta ma dà le chiavi della manovra a Viero con Ilari e Santoro. Magnaghi punta con Bombaggio e Costa Ferreira a supporto. L'ex Pordenone però gioca quasi da seconda punta ed è il primo a farsi vedere al sesto con una conclusione neutralizzata da Polverino. Approccio giusto, quello bianco-rosso ancora a Bombaggi da piazzato ma la specialità stavolta non sortisce il gol del vantaggio. Quello che invece scaturisce da un corner al ventesimo. Testa di Ilari con il pallone che sta per terminare fuori. Polverino nel tentativo di bloccare la palla se la fa scappare. Soprano rimette al centro e per Magnaghi un gioco da ragazzi appoggiare in rete il suo quinto centro in stagione. Trovato il vantaggio esce la Sicula e Tomei è bravo almeno in un paio di circostanze a sventare la minaccia portata dalla formazione di Bucaro che sembra prendere confidenza con il match. Il diavolo però controlla e quando può riparte come al trentatresimo quando Bombaggi approfitta dello scivolone di Ferrini e si invola verso la porta bianconera sparando però incredibilmente alto. Occasione clamorosa per il Teramo che tiene in vita la partita che nel finale di tempo potrebbe comunque registrare il raddoppio. Magnaghi lavora bene per Santoro? Destro volante della mezzarra, sfera a lato. Ancora la formazione biancorossa in apertura di ripresa. Al quarantanovesimo Tentardini assiste dalla sinistra Magnaghi contratto dal portiere bianconero con Santoro fermato da Tafa prima di chiudere in porta. Il più pericoloso però è sempre Bombaggi che spara alto al cinquantaduesimo mentre la stoccata di Magnaghi servito da Cancellotti è troppo debole per falmare all'estremo di casa. Tedino inserisce Arrigoni per Viero, Ammonito salterà Lavellino e Iotti per Magnaghi col diavolo che senza punte si abbassa troppo e non riesce a ripartire come vorrebbe. Troppo stanchi Bombaggi e Costa Ferreira mentre sul fronte opposto Buccaro aveva già inserito Catania ed Esposito. Tedino se ne accorge e butta nella mischia Birligeo all'ottantacinquesimo. Il romeno si fa vedere dopo quattro minuti con un tiro alto e con una conclusione deviata sul servizio di Costa Ferreira. Ma in generale il Teramo non rischia praticamente nulla e in camera tre punti fondamentali nella settimana di avvio della fase 2 del campionato. 28 lunghezze in classifica e secondo successo esterno in stagione. Due ingredienti fondamentali prima del Tour de Force della prossima settimana con Avellino, Catanzaro e Cavese.